Non ho letto che l'ha chiamata Renzi, non l'ha chiamata mai Renzi in questi giorni? No, mai. Nemmeno Guerrini e la Seracchiani mi hanno chiamato dopo che ho lasciato il partito. Mi avevano mandato dei messaggini prima, degli sms, per chiedermi di non uscire esattamente lo stesso giorno o il giorno prima. Però per un mese e mezzo le mie segnalazioni di quel che stava capitando in Liguria sono rimaste inascoltate, come ho detto prima. Mi appello alla sua onestà intellettuale, avrebbe fatto una differenza una telefonata di Renzi? Dal punto di vista dei rapporti umani sì, dal punto di vista della sostanza politica non sarebbe...